allora per quanto riguarda le nozioni particolari di una disciplina è possibile fare delle critiche fondate pur non conoscendo nei dettagli una certa disciplina per esempio il concetto di insieme uoso si può mostrare che è sbagliato anche senza conoscere il linguaggio formale della teoria degli insiemi quindi linguaggio matematico perché vi è una struttura che precede il formalismo matematico ed è la struttura originaria questo è l'argomento principale che sto portando avanti e che in realtà è stato sviluppato da severino io lo sto sottolineando la struttura originaria è la struttura base implicita di ogni altro sistema quindi se si fanno dei rilievi attingendo direttamente dalla struttura originaria si possono criticare anche aspetti ed argomenti che appartengono a disciplina particolare senza conoscere nel dettaglio il suo linguaggio formalizzato ovviamente bisogna conoscere almeno a livello divulgativo di cosa si sta parlando e quindi di che critica si vuole fare ma è sufficiente le condizioni necessarie e è sufficiente conoscere a livello divulgativo determinati aspetti e poi rapportarli alla struttura originaria lo ripeto la struttura originaria è anche il loro fondamento questa è la tesi che porto avanti chi dissente non può presupporre che tale operazione sia sbagliata e che per porre critiche a un certo argomento bisogna conoscerlo nel dettaglio e nel caso ad esempio degli insimi vuoti conoscere il formalismo matematico della teoria degli insiemi questa è una clamorosa petizio principi perché nel dire questo si presuppone quello che il sottoscritto sta mettendo in dubbio io affermo questa tesi la tesi che non è necessario conoscere il formalismo matematico per fare certe critiche a patto che però la propria critica includa una forma di sapere divulgativa del concetto che intende criticare e che si rifaccia alla struttura originaria che è fondamento di tutto anche di quel concetto particolare anche di quella disciplina particolare quindi a condizione che ci siano queste questi rispetti allora la critica è valida questa è la mia tesi chi intende contestare non può presupporre che sia sbagliata la mia tesi ma deve dimostrare deve dimostrare che la struttura originaria non sia il fondamento implicito di tutto e deve dimostrare che non basti una conoscenza divulgativa di un concetto per contestarlo rapportandolo alla struttura originaria io sostengo di sì e sostengo anche che la struttura originaria permette di fare rilievi incontestabili rispetto ai rilievi che si possono fare al di sopra della struttura originaria cioè muovendosi solo nella struttura esplicita di una disciplina particolare perché ritengo questa sempre una parte della tesi che porto avanti che la struttura originaria abbia le ragioni fondamentali di una qualunque disciplina cioè abbia la prima e ultima parola su qualunque discussione perché è la condizione di possibilità per stabilire la verità e la falsità di ogni cosa perché qualunque cosa per dirsi giusta sbagliata vero o falsa deve assumere la struttura base originaria cioè l'opposizione universale del positivo e del negativo da cui però severino ad esempio ha mostrato determinate implicazioni che smontano tutta la concezione nichilista isolante del mondo tutta l'interpretazione nichilista della realtà e quindi la sua critica non è autoreferenziale perché non è chiusa in se stessa ma include il nucleo di tutte le altre prospettive e soprattutto una delle loro premesse fondamentali e sbagliate cioè l'idea che il mondo sia diveniente e si trasformi nelle sue parti e che quindi alcune determinazioni alcuni aspetti si annullino e altri si producano e quindi allora per fare un esempio la teoria della relatività non è necessario che io la conosca riprendendo le tesi di severino nel dettaglio nel suo formalismo matematico per rilevare che nella sua nella sua conclusione non può essere giusta può essere ritenuta formalmente corretta entro certi limiti per quanto riguarda appunto l'interno di una certa disciplina ma se riferita alla realtà da un punto di vista metafisico ontologico è sbagliata perché comporta degli aspetti nichilistici qualunque teoria implichi degli aspetti nichilistici è certamente sbagliata non mi serve sapere nel particolare il particolare non potrà mai negare contestare un rilievo dal carattere universale quindi chi insiste chi dovesse insistere nel nel riproporre solo obiezioni dal carattere particolare rispetto a rilievi che hanno carattere universale continuerebbe solo a commettere errori su errori petizio principi attacco ad argomenti fantoccio continuando a riproporre obiezioni che sono state contestate già in origine allora per questo non si può pretendere di liquidare le argomentazioni che ho proposto ritenendo che siccome io non conoscerai nel particolare certe discipline allora i miei rilievi non sono attendibili a prescindere no è tutto tutto totalmente sbagliato pensare in quei termini perché perché appunto rilievi mirati condotti attraverso una certa strategia teoretica come quella che ho proposto è perfettamente legittimo e corretto se mai è totalmente fallace il modo di obiettare di chi fa il ragionamento che ho esposto prima che è totalmente sbagliato quello di ritenere che non sia possibile questo tipo di operazione lo si dimostri non lo si dia per scontato poi lo ripeto ho l'impressione che in diversi casi si tenta si si tenda a liquidare questo tipo di argomenti presupponendo la incontestabilità di certi assunti che sono quindi arti e dogmi e che quindi il semplice contestarli venga percepito come non sempre ma in diversi casi come non sapere nulla da parte mia di certi aspetti e di certi argomenti e quindi che dire niente se non ribadire che è necessario ascoltare con attenzione quello che viene detto e se si vuole contestare contestare nel merito altrimenti non si può pretendere di contestare quello che dico venendo meno ai principi fondamentali di un confronto dialettico tra posizioni e anche ai principi della logica perché un'obiezione che contiene fallace logiche non è un'argomentazione valida è inutile voler pretendere l'impossibile cioè pretendere di contestare qualcosa in modo valido senza che l'argomentazione sia valida ora quindi vi invito a guardare ad esempio i video che ho fatto sulla struttura originaria sul fatto che sia imprescindibile e del perché ad esempio si possano fare delle critiche mirate anche senza conoscere il formalismo matematico riguardo certi argomenti ma lo stesso ho fatto ad esempio su questioni relative alla meccanica quantistica dove ho mostrato che se con il principio di indeterminazione adesso non ricordo nello specifico avevo esaminato anche un caso metterò il link in descrizione sotto a questo video se il principio di indeterminazione è inteso in un certo modo e implicasse determinate conseguenze allora sarebbe certamente sbagliato e tale rilievo sarebbe valido anche senza conoscere il formalismo matematico per fare un esempio più semplice se io so con certezza che ogni cosa è quel che è e non è altro da sé è una teoria qualsiasi mi dicesse che una cosa non è se stessa io non sarei tenuto a dover sapere cosa dice nel dettaglio perché saprei con certezza che sbaglia perché saprei con certezza e non per assunzione così dogmatica arbitraria dal valore infondato che sbaglia ma so che so con certezza che qualunque teoria assume la struttura originaria e non mi serve aspettare un tempo infinito e confrontarmi con infinite teorie per saperlo perché so che la condizione di possibilità di qualsiasi teoria è che per significare qualcosa deve significare in modo determinato qualcosa anche la la teoria che dicesse che la struttura originaria è totalmente infondata non necessaria pretenderebbe di significare questo e non altro anche una teoria che pretendesse di stare fuori della struttura originaria pretenderebbe di significare determinatamente di stare fuori e non anche di stare dentro apro e chiudo parentesi sì si potrebbe ipotizzare una teoria dal dal tono dialeteistico no secondo cui è sia dentro che fuori la struttura originaria e sia aderente che negante la struttura originaria ma anche questo è significherebbe stare dentro la struttura originaria perché anche in questo caso presupporrebbe di significare così e non altrimenti cioè presupporrebbe di essere dentro e fuori dalla struttura originaria e non soltanto dentro o soltanto fuori dalla struttura originaria e quindi mostrerebbe di porsi come distinta da altri significati neganti quello che lei vuole assumere e lo stesso vale appunto se ritenesse di aderire non aderire alla struttura assumerebbe di aderire non aderire e non anche di non aderire soltanto o di aderire soltanto e così via e inoltre per poter significare determinatamente questo tipo di situazioni se esaminate nel dettaglio si mostra che quelle situazioni sono auto negante sì e per significare per tentare di significare devono prendere le mosse della struttura originaria cioè la devono assumere come incontrovertibile a un livello sottointeso indiretto involontario senza però rispettarne le implicazioni non riuscendo quindi a significare davvero qualcosa al di fuori di essa ora tutte queste cose le ho spiegato in vari video in realtà anche nel precedente ho fatto dei richiami a tal proposito però non è il caso adesso qui di approfondire qui volevo solo sottolineare il fatto che la strategia teoretica argomentativa che ho adottato mi permette di fare questi rilievi perché si muovono su un fondamento che sta sotto tutti gli altri quindi è inutile invocare ragioni che stanno su fondamenti successivi rispetto a questo perché la loro ragione sarà sempre subordinata a questa struttura base fino a prova contrario se qualcuno dissente mi deve dimostrare il contrario senza usare argomenti fallaci è molto semplice ho messo le cose in chiaro nel modo più semplice e lineare possibile ho spiegato anche qual è la strategia argomentativa ho reso esplicite tutte le carte del della partita no che sto che sto giocando e quindi non è che io stia bleffando stia camuffando in qualche modo o rendendo contorte delle cose la strategia è chiara chi vuole obiettarla deve semplicemente provare a confutarla grazie a tutti